preferisco parlare in piedi perché così vedo e quindi aspettiamo un attimo terrore donna è bello in realtà non è proprio vero fosse vero dice no noi non vogliamo far paura voi noi vorremmo concordia pensate che bello che sarebbe un mondo senza guerra senza cattiveria comunque la donna di cui parliamo stasera la scrittrice di cui parliamo stasera sicuramente ha una sua assoluta modernità ed è molto attuale nella sua immaginazione quindi sono contenta di parlare con voi di questa Mary Shelley grazie tesoro grazie di aver dovuto dirtelo prima vero mi dispiace chissà se se riesce da prima perfetto grazie tantissima allora partirò dal nome Mary cioè Maria ora nella nostra cultura Maria è un nome importante significativo naturalmente più in paesi cattolici no come il nostro che in paesi anglicani o protestanti come quello di Mary Shelley dove nei nostri paesi se non il nome certo l'icona della Vergine Maria è molto appariscente meno appunto in quelli protestanti in quelli anglicani ma anche perdono magari dopo mi fa le domande mentre anche chi non sia di fede cattolica ma viva per l'appunto in Italia sa bene chi è Maria Maria è la madre di Gesù il figlio di Dio noi abbiamo negli occhi come dimenticarle le mille immagini della Vergine Maria che popolano le chiese i musei del nostro paese tra tutte ricorderete la Madonna del parto adesso a Monterchi che prima stava nella chiesetta accanto all'ospedale dove appunto si partoriva ora è nel museo civico del paese è indimenticabile quella immagine di Maria di Piero della Francesca lei la donna Madonna del parto non so se ricordate con la mano si allenta leggermente la veste qui alla cintura tanto gonfio è il ventre è una donna niente affatto spiritualizzata reale realissima nessun attributo regale nemmeno i gigli no Maria è colta appunto mentre con la mano si allenta la cintura e con l'altra appoggiata sul fianco sorregge il peso del ventre come fanno appunto le donne no è spostata all'indietro come per bilanciare il ventre gonfio lo sguardo è abbassato la donna è umile è giovane è bella è una contadina alla postura fiera il collo forte la fronte alta ecco qui in quell'immagine c'è il mistero della donna quando si chiama Maria nei paesi cattolici quando si chiama Mary in paesi protestanti Mary può essere Mary Wollstonecraft o Mary Shelley le quali sono intrecciate volenti o nolenti nel parto già anni fa quando curai per Inaudi e poi per Neripozza il Frankenstein di Mary Shelley la figlia mi colpì molto naturalmente questo mistico intreccio di vita e di morte che intreccia le due Mary perché non voglio stupirvi ma vi dico subito che Frankenstein è proprio questo è un romanzo su un parto il parto dello scienziato Victor Frankenstein una specie di tributo lirico drammatico all'evento mostruoso che vede un uomo maschio partorire una creatura la creatura a cui non verrà dato nome è sempre the creature mai the monster attenzione lei non lo chiama mai mostro ma chi è intanto Mary autrice di questo romanzo intanto come dicevo è figlia di Mary Wollstonecraft una donna straordinaria che vive di passione intellettuale di passione politica e di amore nasce nel settecento Mary Watsoncraft nel 1759 e muore nel 1797 date importanti perché è già pienamente una donna romantica che in anni particolarmente effervescenti dal punto di vista delle idee mette sul tavolo la rivoluzione delle rivoluzioni e cioè rivendica il diritto delle donne a esistere nel 1792 sotto l'onda della rivoluzione in Francia scrive un'opera straordinaria sui diritti delle donne una dichiarazione di indipendenza femminile e femminista che rimarrà una pietra miliare nella storia del femminismo un'opera che reclama in piena consapevolezza e coscienza che si riconoscono alle donne i diritti sociali e politici ed educativi che vengono riservati all'altro sesso e cioè al sesso cosiddetto forte eccetera eccetera. Ora in questo testo questa Mary la prima intraprende un'analisi spietata dei meccanismi mentali e poi si rivelano ciechi esponenti di un'idea di mondo tutta maschile che confina la donna nell'universo domestico ne fa più o meno una schiava Mary lo dice del sesso abusata da mariti che ne godono come di una proprietà esclusiva eccetera eccetera. Mary dunque questa Mary la prima ha conosciuto a casa sua questa barbarie un padre prepotente e incapace una madre oppressa e incapace di ribellione. Lei però ha una mente curiosa e un cuore ardente e non ha dubbi riguardo al fatto che le donne non sono oggetti ma esseri umani che hanno gli stessi diritti fondamentali degli uomini ma come dicevo questa Mary oltre che illuminista è già romantica e vive all'altezza delle sue idee e delle sue passioni anche nel modo dell'amore lo testimonia e ama di una passione profonda prima una donna Fanny con la quale fondano a scuola e poi un uomo Imley un avventuriero americano che in verità non merita il suo amore e poi ancora un altro William Godwin filosofo inglese che invece la merita. Ora da questa Mary nascerà un'altra Mary la nostra perché se Mary è il nome della madre Mary sarà anche il nome della bambina e di Mary il nome consegnerà a entrambe un'eredità che le stringe in un nodo fatale la maternità perché come vedremo di madre in figlia non passa soltanto il nome ma la tragedia del parto e di fatti Mary Godwin che poi diventerà Mary Shelley se non muore di parto darà la nascita a creature che al parto saranno loro a non sopravvivere e nella peregrinazione dei simboli come non leggere se non come memoria di un evento luttuoso legato alla nascita lo stesso capolavoro di Mary Shelley, Frankenstein appunto di cui oggi parliamo perché come vi racconterò adesso tra poco la madre la prima Mary morirà dando la vita alla seconda Mary ma torno un attimo alla prima Mary Wollstonecraft che fonda una scuola femminile a Londra è amica di poeti come William Blake, frequenta filosofi come Godwin vive appunto come vi dicevo a Parigi durante la rivoluzione e scrive appunto nel 1792 questo Vindication of the Rights of Women un libro che nel novecento quando lo legge Virginia Woolf definirà vitale, necessario così vero ancora dirà Virginia Woolf la quale voi ricorderete si batte per i diritti delle donne soprattutto all'istruzione e all'eguaglianza e di fatti la prima Mary, Mary Wollstonecraft che gli uomini non a caso chiamano per cognome Wollstonecraft come fosse una di loro è a tutti gli effetti un intellettuale discute con Blake, con Fuseli di cui si innamora e poi si può sposare a Godwin eccetera eccetera questa è una donna appassionata un intellettuale appassionata e che soffre anche per amore e poi darà vita appunto a questa bambina che però nascendo la uccide Mary I muore a 38 anni di infezione puerperale la bambina Mary II sopravvive ed è allevata e curata dal padre Godwin nella memoria della madre eroica e non dimentica mai neppure per un momento la madre morta sulla tomba della madre incontrerà poi Shelley con il quale si sposa ma vediamo adesso a Mary II quando il primo gennaio del 1818 esce il romanzo Frankenstein è giovanissima è nata nel 1797 quindi non ha ancora 20 anni è orfana di madre vi dicevo perché la famosa intellettuale femminista è paradossalmente morta nel dare la luce e cioè la più femminile delle morti e ora questa Mary II l'anno prima di cominciare a scrivere Frankenstein ha perso una bambina nata prematura come vedete per queste Mary dare la vita è un atto in presa diretta con la morte funesto è a chi nasce il Dimo Natale il romanzo nel 1918 esce anonimo Mary non lo firma quando 13 anni dopo lo riprenderà riprenderà in mano al libro lo ripubblicherà in una versione corretta e illustrata spiegherà che lei Mary Godwin figlia di Mary Wollstonecraft non se l'era sentita di riconoscere la maternità paternità del romanzo allora all'epoca si trovava ancora sconveniente l'idea che una donna pubblicasse ricorderete che cosa significava una donna pubblica forse voi non lo sapete più giovani la donna doveva stare appunto dalla parte del privato non del pubblico dalla parte dell'intimo non e del segreto e vi ricordo qui che Jane Austen data di nascita 1775 si firmava Elodie oppure autrice di Orgoglio e Pregiudizio e le sorelle Bronte si firmavano si spacciavano per i fratelli Bell e Louisa Mary Alcott che firma il suo piccolo le sue piccole donne e con il nome di E.A.M. Bernard Elizabeth Gaskell grande emilatrice tra l'altro di Frankenstein di questo romanzo la quale appunto sceglie di pubblicare sotto un nome maschile come Cotton Mother Mill comunque nel 1818 Mary non firma il suo romanzo anche se la dedica la dedica è a Godwin in parte rivela di chi è il romanzo mentre appunto anni dopo nel 31 lo riconosce e si autorizza come dice lei giocando ad essere autrice e si fa la stessa domanda che si faranno poi i lettori più tardi ancora oggi noi com'è possibile si chiede che io allora così giovane sia arrivata a concepire e a sviluppare un'idea tanto spaventosa lei così timida reticente silenziosa ritirata in se stessa perché a chiunque la incontri di persona Mary conferma l'idea predominante di una femminilità silenziosa discreta niente affatto una valchiria è una donna esile delicata figlia di due persone di chiara fama letteraria così si presenta il che spiegherebbe il fatto che abbia pensato lei lo dice molto presto a scrivere già da bambina racconta il mio passatempo preferito era quello di scrivere storie ma il mio piacere ancora maggiore confessa era quello di costruire castelli in aria indulgere in sogni ad occhi aperti seguire il corso dei pensieri che avevano come oggetto la creazione di eventi immaginari sì certo confessa i suoi sogni erano più fantastici e le davano più piacere di quello che scriveva nei miei scritti dice è molto modesta Mary ero un'imitatrice mentre i miei sogni erano davvero miei tutti e solo miei erano il mio rifugio quando ero di cattivo umore e il mio piacere più caro quando ero libera ma chiarisce e il chiarimento è importante non ero io l'eroina dei miei racconti la mia vita mi appariva troppo banale non riuscivo a immaginare per me romantiche pene eventi straordinari e poi poi arriva Shelley e la vita si fa meravigliosa e la realtà diventa più favolosa dell'immaginazione Percy Shelley è l'uomo dei suoi sogni e diventerà l'uomo della sua vita l'uomo che ama e la ricambia è un poeta e la ama dice Mary anche perché lei è la figlia di Godwin e di Mary Wollstonecraft è un amore ideale il loro un amore sublimo sublime sublimante è lei a dirlo e Percy la incita a scrivere ma lei preferisce lo studio la lettura è abituata a vivere per conoscere per migliorare le sue idee per allargare le sue conoscenze per coltivare la sua anima così dice anima che naturalmente coltiva anche nella conversazione nella frequentazione di Shelley e dei loro amici finché nell'estate stregata del 1816 in Svizzera si ritrovano lei e Percy Shelley vicini di casa di Lord Byron e iniziano a trascorrere insieme ore piacevoli sul lago passeggiano conversano poi siccome è una settimana molto piovosa decidono che possono passare il tempo per passare il tempo di scrivere dei racconti facciamo una gara dice lo Byron sempre maschile intraprendente ciascuno di noi scriva una storia di fantasmi la proposta viene accettata eravamo in quattro dice Mary Byron cominciò a scrivere un racconto un frammento del quale pubblicherà alla fine del suo poema Mazepa ma non continuò Shelley ne cominciò un altro ma non lo finì Polidori il medico amico di Byron ebbe l'idea di una dama che aveva un teschio al posto della testa come castigo per aver spiato dal buco di una serratura non si sa per vedere che cosa ma qualcosa certamente di peccaminoso di spaventoso ma per lì per lì questo racconto non quagliò anni dopo svilupperà nel vampiro 1819 i due illustri poeti evidentemente non molto interessati alla prosa a loro poco congeniale abbandonano il gioco in realtà l'unica che davvero scrive questo racconto che fa questa questa gara è proprio Mary Mary dice io mi detti molto da fare per pensare una storia che potesse rivaleggiare con quelle che ci avevano spinto al gioco perché stavano leggendo dei racconti dell'orrore tedeschi che avevano trovato in questa casa e cioè una storia che parlasse delle paure misteriose insite nella nostra natura che risvegliasse brividi di orrore che facesse temere al lettore di guardarsi attorno che gli facesse raggelare il sangue accelerare i battiti del cuore e pensavo e ripensavo dice Mary ma niente da fare sentivo quella vuota capacità di inventare che è la peggiore disperazione di chi scrive hai trovato una storia le chiedevano ogni mattina e ogni mattina mortificata le diceva no e questo la avvilisce perché lei è abituata a donare è generosa Mary è prodiga è materna in questo ma una grande intuizione e riflette la capacità di inventare bisogna ammetterlo con umiltà non consiste nel creare qualcosa dal nulla piuttosto è dal caos che bisogna procurarsi il materiale l'invenzione può dare forma a una sostanza scura e informe ma non può creare la sostanza stessa e la sostanza le viene dalle lunghe conversazioni che fa con Lord Byron e Shelley a cui lei in qualche modo partecipa ma in realtà assiste con devozione quasi sempre in silenzio durante uno di questi incontri si discutono varie dottrine filosofiche tra cui la natura del principio vitale e come possa essere questo principio vitale scoperto e divulgato parlano degli esperimenti di Darwin e a lei rimane in mente un'immagine come Darwin avesse conservato una sezione di lombrico in un vaso di vetro perché per qualche ragione straordinaria quella aveva cominciato a muoversi di un moto spontaneo ma pensa non è così che si può dare la vita forse forse un corpo può essere rianimato il galvanismo aveva dato speranza in questo senso forse le componenti di un essere vivente potevano essere fabbricate assemblate infuse di calore vitale ma dare la vita è un'altra cosa lei è una donna e lo sa quella serata come la ricorda si trascorse conversando di questo ed è passata l'ora delle streghe quando gli amici vanno a letto ma quando Mary posa la testa sul cuscino non si addormenta non si può dire che pensi nella sua mente spontaneamente fluttuano immagini che hanno una vividezza di gran lunga superiore alle solite visioni e fantasticherie vidi dice Mary con gli occhi chiusi ma con una percezione mentale acuta il pallido studioso di arti profane inginocchiato vicino alla cosa che aveva assemblato vidi l'orrenda sagoma di un uomo disteso che all'entrata in funzione di un potente macchinario da segni di vita e freme con un movimento impacciato vivo solo a metà se voi avete visto i film da Boris Karloff a Branagh capite no? cioè le immagini sono molto forti non so ecco questo questo questa cosa thing dice in inglese questa cosa spaventosa frightening è spaventosa per l'effetto che fa no? lo sforzo umano di scimmiottare il creatore del mondo non può sortire nel successo e di fatti l'artista il Frankenstein scappa colmo di orrore per quello che ha fatto spera che lasciata a se stessa la flebile scintilla della vita che ha comunicato alla materia si spenga da sola che torni ad essere materia inerte e si addormenta lo scienziato il creatore no? ma quando si sveglia e apre gli occhi vede che l'orrida cosa thing è a fianco del letto e lo guarda con occhi gialli e acquosi pieni di domande notate acquosi gialli ma pieni di domande questo rende la cosa umana la stessa Mary si sveglia terrorizzata da questo sogno ma capisce che ha trovato la sua storia Eureka dice l'ho trovata quel che ha terrorizzato me terrorizzerà gli altri basta che descriva lo spettro che io che ha visitato il mio cuscino stanotte e il mattino dopo annuncia a tutti ho trovato la storia e quel giorno stesso comincia a scrivere era una terribile notte di novembre è l'inizio del primo capitolo lì per lì pensa a un racconto di poche pagine ma Shelley la spinge a sviluppare l'idea notate Shelley ha deciso di non partecipare più al gioco ma spinge lei a sviluppare l'idea si è chiaro specifica Mary però importante non devo a Shelley che ora è suo marito il suggerimento di un solo evento la storia è tutta sua nessuno spunto emotivo ma riconosce se non fosse stato per lui il libro non avrebbe preso la forma che prende e aggiunge anche che si la prefazione per quanto ricordo della prima edizione fu scritta interamente da lui attenzione però quando pubblica il romanzo a suo nome un po' di anni più tardi riconosce di mettere al mondo una mostruosa progenie hideous progenie dice vedete si sente madre e alla sua mostruosa progenie augura buona fortuna perché lei al contrario del protagonista creatore del racconto a Frankenstein lo scienziato Frankenstein lei nutre per la sua creatura un vero affetto dice e quella creatura frutto dell'immaginazione la riconosce come offspring of happy days come qualcosa che è andato da giorni in realtà felici quando lei dice morte e dolore erano solo parole che non trovavano un eco nel mio cuore batte vedete su offspring prole e quindi sul tasto della maternità il suo racconto è la sua creatura lei ha cura della sua creatura mentre nel racconto il creatore Frankenstein ha paura della sua creatura e lo lascia solo il verso che prende la storia che Mary racconta non è e questo è un dato fondamentale non è tanto quello prometeico malgrado il sottotitolo The Modern Prometheus in questo racconto non si esalta la potenza titanica dell'eroe maschio piuttosto si scava nelle pieghe psicologiche del superomismo dell'uomo maschio scienziato che si vorrebbe padrone della vita e della morte e sprofonda nella colpa di fronte alla sua tormentata incapacità di sostenersi a tale ideale insisto la metafora ossessiva della nascita presiede alla genesi del romanzo e non è però nel modo del superomismo no? che è proprio del di Frankenstein e vi propongo questa ipotesi non sarà che la fantasia di Mary seconda continua a ricamare l'evento mortuario che ha segnato l'inizio della sua vita con quella istantanea contiguità di vita e morte che torna in piena evidenza nel tema della nascita di questa creatura per cui la creazione per la cui creazione vengono vengono impiegati organi e arti rubati ai cadaveri materiali morti che nell'incredibile metamorfosi si trasformano in corpora produttori di energia perché pensamoci che cosa accade qui sempre tornando al reale che nutre l'immaginario come dice Mary una donna per esperienza sa conosce quel modo della creazione che consiste nel mettere al mondo una creatura generandola dalle proprie viscere giusto ma sa anche che ma qui vediamo che se a partorire è un uomo maschio quel gesto osservato dal punto di vista della donna introduce la prima fondamentale e imperdonabile trasgressione dei confini della legge di genere che un uomo dia la vita non è nell'esperienza comune della specie umana dove la prima fondamentale divisione si ordina per l'appunto in rapporto alla differenza di una prestazione sessuale che destina la donna e non l'uomo a farsi grembo di riproduzione in più lo scienziato e creatore una volta compiuta la sua stupefacente impresa è preso dal terrore e rifiuta la creatura che ha messo il mondo di conseguenza per il dolore del rifiuto la creatura tramuta in un terrificante agente di distruzione che con metodo e con ostinazione e con passione addirittura si dedica all'agnentamento del gruppo familiare del suo creatore se la famiglia umana non lo vuole il neonato mostro distruggerà la famiglia e potete dargli torto se chi lo ha messo al mondo ve lo abbandona inerme il mostro senza nome non potrà fare altro che parlare la lingua del risentimento dell'odio e perseguitare chi gli ha ritirato l'assistenza che gli è dovuta chi gli ha negato il calore della protezione chi gli ha negato il bene dell'educazione questo è il punto che vuol dire mettere al mondo se poi questi gesti non si sanno fare il creatore il creatore cioè lo scienziato da parte sua riconoscerà di essere colpevole perché come si fa a disconoscere il fondamentale dovere di sostegno nei confronti di chi si è generato il dovere di metterlo in grado di vivere l'atto di negligenza perseguiterà il novello prometeo lo scienziato e come conseguenza lo renderà vittima di un odio renderà la creatura vittima di un odio immenso la dipendenza della creatura dal creatore prende questo verso sbagliato effettivamente tragico o forse più che tragica se prendiamo le parti della creatura la vicenda è davvero patetica cioè ricca di patos romanticamente il mostro vorrebbe comunanza società vorrebbe appartenere a una comunità essere come tutti gli altri la sua eccezionalità gli pesa la sua unicità è un danno gli rende impossibile la vita è impraticabile la bontà come può essere buono chi è solo al mondo privo di un altro simile in cui specchiarsi e amarsi chi venga rifiutato abbandonato come stupirsi che diventi malvagio colui al quale per nascita la felicità è negata il mostro è una vittima è del tutto chiaro nel racconto che Mary Shelley prende le sue parti non scrive dal punto di vista del creatore si cala piuttosto nella parte della creatura che appunto vi dicevo importante mai una volta chiama mostro è un termine che verrà poi usato nei giornali eccetera non assume mai il pregiudizio dello scienziato Victor Frankenstein né chiede a noi lettori di schierarci contro la creatura rifiutata da tutti gli esseri umani che incontra la creatura solo al mondo si mette in cerca del padre madre che l'ha rifiutata e chiede al suo creatore almeno una compagna I am alone and miserable man will not assess sono solo miserabile nessuno mi fa compagnia ma allora crea uno come me dice il mostro perché io almeno posso avere qualcuno che è mio compagno cioè la creatura si presenta come un figlio abbandonato dunque che diventa cattivo perché perché non è amato ed ecco che una storia sovrannaturale metafisica eroica si trasforma in realtà in uno studio psicologico e ripeto e rispetto e dall'esplorazione gloriosa dei poteri dell'uomo maschio tema caro a Shelley a Byron ai romantici precipitiamo nell'inferno della natura umana universale Frankenstein non è la storia di un brillante inventore della sua creazione è la storia di ciò che accade nell'atto della creazione delle conseguenze dell'atto e soprattutto quello di quello che accade alla creatura con un termine un po' heideggeriano è la storia della sua gettatezza è gettato nel mondo ripeto di per sé il neonato non è cattivo chiede empatia simpatia e gliela mostrassero sarebbe buono ci sono degli episodi nel racconto lui va a raccogliere la legna per questa poveri una coppia di poveri cristi che stanno un padre cieco e lui li aiuta eccetera eccetera ma perché gli altri gli dimostrino amore dovrebbe attenzione dissolversi la platonica identità di bene e di bello che perciò stesso condanna il brutto e cattivo a patire l'alienazione dal mondo dei belli e dei buoni il brutto dovrebbe in altri termini educare il mondo dei belli a guardarlo in un altro modo aprire i loro occhi perché colgano un'altra bellezza che offende le proporzioni che trasgredisce le vecchie armonie una bellezza inaspettata diversa nuova nuova sublime in effetti c'è chi è impegnato in quegli anni filosofi pittori a in tale impresa c'è chi cerca di forzare il concetto limite della bellezza fino a includere l'orrore la deformità la follia una bellezza sublime siamo in pieno romanticismo dopo tutto no? ma è ancora presto ci vorrà ancora tempo perché il mossuoso trovi accoglienza nel mondo comune degli uomini comuni anche se con questo romanzo qui comincia l'inizio di un raccomandabile pedigree per entrare nell'album di famiglia dei romantici per ora nessuno al mondo tra la gente comune vede la bellezza del mostro nessuno crede alla sua bontà solo il vecchio cieco lo accoglie in casa e gli parla e sono le pagine più commoventi di questo di questo racconto nel secondo volume il capitolo 7 ma anche da questo legame tra il cieco e la creatura gli altri che vedono lo lo separano no? perché cosa vedono i vedenti? no? non vedono la dedizione del mostro non vedono la generosità del mostro no? e quindi lo escludono e così la dedizione del mostro si tramuta in aggressività la gratitudine diventa invidia finché l'unico l'unico abbraccio con chi l'ha creato l'unico il mostro si abbraccerà appunto con chi l'ha creato e sarà mortale proprio alla fine quando il mostro si getta sul cadavere del suo creatore svelando infine il grande travolgente affetto che lo lega al corpo esanime di chi gli ha dato la vita solo allora il mostro potrà manifestare la passione odio amore che differenza fa? è una passione che lo avvince al suo creatore ma attenzione ho finito Frankenstein non è soltanto un romanzo familiare è anche un romanzo sociale Elizabeth Gaskell scrittrice molto diversa da Mary Shelley ma sua autentica lettrice coglie con intelligenza e prespicacia la risonanza politica che si cela dietro la figura della creatura tramandando a noi tutti una lettura politica del testo che alla fine dell'ottocento risorgerà nel linguaggio Fabiano di Sidney Webb non c'è dubbio che alla gestazione del romanzo concorre la tensione politica di quegli anni in cui il romanzo viene concepito vigile attiva è nella mente di Mary l'angoscia per la violenza che macchia la vita politica del suo paese dal 1811 al 1817 l'Inghilterra è scossa dalle proteste degli operai che si ribellano all'uso delle macchine strumenti maledetti della strategia maligna dei padroni che così tolgono loro il lavoro quasi fossero robot messi al posto del loro corpo vivo gli operai luddisti aggrediscono distruggono quell'invenzione diabolica frutto della scienza meccanica e i giornali dell'epoca interessante titolano the monster is on the loose il mostro senza freni senza freni disinibita la violenza scuote le fondamenta dell'ordine sociale dello status quo e l'impersona il mostro che in questo caso è un proletariato incolto violento perché disperato un proletariato anonimo umiliato e offeso viene descritto dai giornali dell'epoca come una massa oscura di lupi assetati di violenza e dietro il fantasma della folla acefala affiora lo stesso terrore che non molti anni prima aveva contagiato la Francia viene addirittura rievocato un significato del termine mostro che è Lear Lear Cesperiano nella sua tragedia suggerire mostri sono per Lear le due figlie ingrate di ingratitudine parla l'establishment conservatore mostri ingrati pericolosi sono gli operai perché se non c'è riconoscenza né gratitudine il padre padrone si ritrova davanti uno schiavo ribelle e il legame sociale crolla sui rotocalchi dell'epoca si fa un ampio uso vi ripeto della parola mostro in questa accezione quello francese per esempio viene descritto come uno stato mostro la Francia è madre di mostri di ingratitudine è accusato l'operaio luddista e con lo stesso termine la popolazione affamata dall'ingiustizia sociale naturalmente non la vedono così né Byron né Shelley che sono filosof e sono poeti illuminati veggenti ma già in William Godwin e Mary Wollstonecraft ma già loro due questa coppia che è sono i genitori di Mary avevano insegnato che le condizioni di vita materiale hanno un'influenza determinante sul carattere del vivente e la violenza è semmai il frutto dell'ingiustizia questa sì mostruosa che offende e umilia la convivenza sociale e sicuramente Mary Shelley condivide tale credo grazie 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 grazie